Nel più totale silenzio, in un momento assolutamente critico per l'Italia, beh, c'è chi continua a lavorare a pieno ritmo. Sono le ONG, che nel mese scorso non si sono fermate, neppure a Pasqua. Dove fanno sbarcare i migranti? Beh, lo sappiamo tutti, in Italia. Visto che i nostri alberghi sono vuoti a causa del coronavirus, e c'è posto per tutti. Ora usciamo però subito dall'ironia, perché qui c'è poco da ridere. Allora, su una cosa penso che siamo tutti d'accordo. Una situazione simile in Italia, beh, non l'avevamo mai vista. Davanti a noi, una crisi economica devastante, che non ha precedenti. E il nostro governo cosa fa? accoglie nuovi migranti. Disperati che arrivano in un altro paese di persone disperate. La situazione potrebbe davvero diventare esplosiva. Sembra che il nostro governo abbia come scopo quello di distruggere l'Italia. Siamo veramente non solo in mano a degli incompetenti, ma anche degli scriteriati. Ripeto, se il loro obiettivo fosse quello di distruggere il nostro paese, beh, non potrebbero comportarsi in maniera diversa. Nel mese in corso questi i numeri degli sbarchi. 6 sbarchi il giorno 9, 73 il giorno dopo che era il venerdì santo, 101 a Pasqua, 77 a Pasquetta e altri 10 ieri. In totale 266 persone. Nello stesso periodo dello scorso anno, ministro degli interni Matteo Salvini, erano stati 75. Dall'inizio dell'anno sono sbarcati in Italia 3.238 migranti. Erano stati soltanto 625 nello stesso periodo dello scorso anno. Quindi quest'anno abbiamo avuto un incremento del 418%. Queste sono le sole statistiche in cui l'Italia ha il segno più. E che segno più? Più 418%. Ma attenzione perché questi numeri sono destinati ad aumentare anche a breve. Visto che in prossimità delle nostre coste c'è la Alan Kurdi, la nave dell'ONGCI che trasborderà 150 migranti a bordo di un'altra nave dove i migranti dovranno trascorrere la quarantena prima dello sbarco definitivo. Almeno così sembra. Naturalmente tutte queste operazioni ci costano un sacco di soldi e la situazione sociale potrebbe davvero degenerare. Sentite cosa hanno sottoscritto 12 sindaci delle città siciliane che si affacciano a costa meridionale dell'isola. Ebbene, una lettera inviata al premier Conte e alla ministra Lamorgese, da questi dodici sindaci, in questa lettera tra l'altro si legge che la paura della malattia, le limitazioni delle libertà personali e gli effetti già lancinanti della crisi economica stanno alimentando una crescente rabbia sociale a cui è necessario negare ogni nuovo possibile appiglio. E certamente il termine rabbia sociale non è esagerato. Non so se i vertici del nostro governo abbiano inteso a quale livello di sofferenza siano arrivati gli italiani. Questa della Alancurdi, nave che sappiamo battente bandiera tedesca, della ONG-CI, questa è una storia incredibile. Il nostro governo aveva cercato così di chiedere aiuto alla Germania, visto la grave situazione sanitaria nella quale si dibatte il nostro paese. Il ministro degli interni tedesco, così aveva almeno a parole, invitato il comandante dell'imbarcazione a fare rotta verso un porto sicuro tedesco. Ma il comandante della Alancurdi non lo ha minimamente ascoltato, se ne è strafregato e al solito ha fatto rotta verso la Sicilia. E così dobbiamo trovare noi una nave sulla quale far fare la quarantena alle 150 persone a bordo, ovviamente con costi ingenti, in un momento nel quale diamo ai nostri lavoratori autonomi 600 euro e con questo devono pagarsi il mutuo, l'affitto, acqua, luce, gas, oltre a tutte le varie spese per mantenersi, naturalmente. Mentre ricordiamo che 35 euro al giorno fanno 1050 euro al mese. Queste sono cose che non si possono giustificare. Veramente solo chi vuole male all'Italia può governare così il nostro paese. Da sottolineare poi che la malafede degli organi di disinformazione di massa è sotto gli occhi di tutti. Queste notizie infatti non trovano spazio sui media mainstream, mentre dovrebbero essere divulgate come. Ma il paradosso dei paradossi è che la nostra magistratura invece va ad indagare in regione Lombardia. E' veramente incredibile. Con tutto quello che ha, cioè, tutto il bene che ha fatto quella regione, che meriterebbe davvero una medaglia al valore. Pazzesco, veramente pazzesco. Guardate che se una persona per bene, una persona amabile, buona d'animo, come l'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera, ebbene se è arrivato lui a dire sono disgustato dallo sciacallaggio politico, significa veramente che si è superato ogni limite, ogni limite di sopportazione. La Lombardia ha fatto ciò che nessun'altra regione, ma non in Italia, al mondo, avrebbe potuto fare, nemmeno la Baviera, ne sono certo. I Lombardi hanno dato una prova straordinaria, lavorando 20 ore al giorno in condizioni quasi estreme e con un governo centrale che remava contro. Giulio Gallera deve diventare il nuovo sindaco di Milano. Milano da anni non ha più un sindaco veramente ben voluto dai milanesi e Giulio Gallera è veramente una persona per bene. In Italia, lo sappiamo, che vengono premiati i fanfaroni, gli sbrufoni e i millantatori, ne abbiamo conosciuti a Iosa. Però adesso è venuto il momento di cambiare. Abbiamo bisogno di persone serie, persone oneste, persone che lavorano per il bene della comunità, insomma persone come Giulio Gallera. Ora anche la Lombardia è pronta per ripartire, è necessario. Un paese ha bisogno che la sua locomotiva si rimetta in moto. Io naturalmente capisco l'emergenza sanitaria, ma come ha detto anche il governatore veneto Luca Azaia, dobbiamo cominciare a convivere con il virus. Se dovessimo attendere ancora, la situazione si farebbe veramente catastrofica. E poi non abbiamo bisogno dei colà o di quella gente lì che viene dal Bilderberg. Abbiamo solo bisogno di tornare alla normalità. Ormai la fase più acuta è alle spalle, ciò che andava fatto è stato fatto e non possiamo aspettare gli zero contagi. Se attendiamo ancora la popolazione, si farà strada prima l'angoscia e poi la disperazione, perché dopo aver perso il presente, ricordatevi che la cosa peggiore è non vedere il futuro. Ovviamente il punto di partenza sarebbe far chiudere immediatamente questa esperienza governativa. Via il governo PD, Movimento 5 Stelle, che probabilmente passerà alla storia come il peggior governo della storia repubblicana. Un governo di venduti e un governo di incapaci. E quanto sta accadendo in Europa è l'esempio più eclatante. Ora voglio proprio vedere come andrà a finire questa storia del meso, perché lì potrebbe davvero la nostra Italia toccare il fondo, ma è poi risorgere ovviamente. insomma, noi speravamo che la vicenda migranti potesse darci perlomeno un po' di tregua, almeno in questo momento, un momento davvero difficile per il nostro paese. Non è così. L'Italia continua a essere trattata come un campo profugio. D'altronde, con i governanti che abbiamo, un po' ce lo meritiamo.